L'altro è il brano che ci aiuta, non li ripassiamo in rassegna tutti perché se no buonanotte, arriveremo a pranzo con una fame tremenda, a forza di parlare di banchetti. Linea 117, Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Conosciamo il testo, è inutile leggerlo tutto, c'è il rifiuto degli invitati, gli ebrei, e allora il re cosa fa? Dice ai servi, chiamate tutti, siamo alla linea 124, la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, e tutti quelli che troverete chiamateli a nozze, chi sono ai crocicchi delle strade? Se voi leggete quel libraccio immenso scritto da Joachim Jeremias, Jerusalem Zurzai Tiesu, Jerusalem e i tempi di Gesù, dove vi scrive tutto, anche come erano fatti i sandali degli schiavi, quante strisce di cuoio avevano, tutto. Nei crocicchi delle strade trovate i cechi, gli accattoni, e non è registrato. Padrone e il re, dice giustamente, chi è stato invitato e rifiutato, ciao, chiamate tutti. Andate ora ai crocicchi delle strade, e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze, poi sappiamo che uno fa il furbo, deve essere stato italiano questo qui, uno fa il furbo e dice, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ha muto lì, allora sappiamo come sono andate le cose. Però, anche qui, se voi notate, il regno dei cieli è simboleggiato da questa grande festa di nozze. Allora la logica comincia a quadrare. Gesù dice, tu chiedi al padre di quel grande banchetto oggi chiedi il pane cioè chiedi un elemento di quel banchetto in modo da pregustare oggi questo futuro che non è solo promessa di un domani perché se fosse solo promessa di un domani ha ragione Carletto Marx la religione è la droga dei popoli e Gesù risponde no quella realtà futura che vi viene promessa è sperimentabile parzialmente ma è sperimentabile già oggi e voi chiedete questo a Dio chiedete di essere pienamente uomini pienamente donne e chiedete di sperimentare oggi qualche cosa del futuro in modo che il futuro non sia l'oppio dei popoli ma sia una realtà a cui tendere perché reale in quanto già sperimentata nell'oggi questo si nasconde dietro la domanda dacci oggi il nostro pane continueremo pure a dire quotidiano ma sappiamo cosa si nasconde dietro a questa parola ora l'ultima domanda e poi per questa volta abbiamo finito la prossima prenderemo il tema dei peccati che sono interessanti perché gustosi peccato è gustoso la domanda però è importante noi siamo peccatori sì tutti tutti nessuno escluso neanche quello che pensa di essere migliore di noi perché ce ne sono quel fariseo che nel tempio diceva signore ti ringrazio perché non sono come quello là il pubblicano perché io prego digiuno pago le decime guardate che ce ne sono e Gesù con un sorrisino ironico dice il secondo è tornato a casa perdonato il primo con un peccato in più chi pensa di essere migliore di te e di me va a casa con un peccato in più siamo tutti peccatori ma se siamo peccatori la domanda è siamo degni e la risposta è sì perché la dignità che Dio ci dà non è un merito nostro l'essere figli di Dio è un regalo che ci fa non è un commercio io ti do tu mi dai e allora anche se noi abbiamo la coscienza nera come la furigine noi abbiamo il diritto perché lui ce l'ha dato di sperimentare oggi qualche cosa del futuro e quindi questo dacci oggi il nostro pane quotidiano lo possono dire tutti perché non è questione di merito la domanda è è possibile che la nostra fede si fondi anche sul segno sull'esperienza Paolo dice fides est de non visis attenzione la fede è legata alle cose che non si vedono ma di queste cose che non si vedono e Paolo lo ripreterà dicendo guardate che nel regno dei cieli ci aspettano cose che nessuno ha mai visto nessuno ha udito sì è vero però noi chiediamo qualche cosa questo è possibile perché in tutto il testo biblico dalla Genesi all'Apocalisse il segno accompagna sempre la fede delle persone questo l'abbiamo dimenticato non dimenticatelo ognuno ha bisogno non è un optional è un bisogno quando Dio gli concederà di vivere questo segno oba non lo so per qualcuno all'inizio della vita adulta per qualcuno verso la fine della vita chi lo sa nessuno può dire a Dio che fai lo dice Giobbe e lo dicono tanti altri libri biblici però il segno ce lo dà per questo ogni momento della nostra vita è importante i don Renato anche quando vado alla toilette è tutto importante perché tu non sai il momento in cui Dio ti pesca per darti questo segno Pietro ha avuto il segno quando Cristo deturpato ormai dal processo al sinedrio gli pianta gli occhi Pietro capisce e dice che è uscito fuori pianse Pietro mi ami tu sì signore sai che io ti amo lo ha tradito però l'amore di Pietro c'era era un amore debole era un amore come il nostro peccatore però l'amore c'era Gesù non bate ciglio pasci miei agnelli è un'esperienza è un segno per Paolo invece c'è stata una bella tombola a Damasco puff se noi esaminiamo la nostra vita quando siamo alla fine ci accorgiamo che nella nostra vita non ce n'è uno ce n'è di più di uno di questi segni attraverso i quali noi abbiamo sperimentato il futuro nel presente e non sono segni eclatanti esodo capitolo terzo linea 134 siamo a madian deserto sole a picco un arbusto che brucia non si consuma ancora caldo uno si scioglie dall'arbusto viene fuori una voce eh sì è una voce o è un'allucinazione perché le allucinazioni non sono solo visive sono anche uditive ho sentito sì ma di fatto non c'è niente e Mosè sta facendo questa esperienza quella volta la parola allucinazione non esisteva perché la scienza medica era ancora embrionale però l'esperienza umana sa distinguere fra ciò che è reale e ciò che è immaginario e Mosè ha il dubbio che questo incontro con Dio sia puramente immaginario in questa esperienza che Mosè sospetta essere puramente immaginario a colpo di sole Dio gli dice perciò va siamo alla linea 134 io ti mando dal faraone fa uscire dall'Egitto il mio popolo gli israeliti Mosè rispose chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto è un omicida se entra in Egitto lo mettono in Cheba non dimentichiamocelo lui è scappato dall'Egitto perché è accusato di omicidio reale non ipotetico e allora Mosè pur avendo il sospetto di avere un colpo di sole ragiona ancora e dice chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto rispose quella voce rispose io sarò con te questo sarà per te il segno che io ti ho mandato quando tu avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto servirete Dio su questo stesso monte dove tu hai il sole a picco una voce ti parla da questo roveto che brucia senza consumarsi e che tu pensi essere un'allucinazione il segno che invece questa è stata per davvero un'esperienza di incontro con Dio tu ce l'avrai quando verrai qui in questo monte con tutto il popolo allora ti convincerai che questo dialogo che abbiamo avuto tu e io era vero è un segno e Dio glielo dà ce n'è un altro simpatico questo che è un contadino non è un grande condottiero come Mosè è l'uomo del quotidiano il signore gli disse si chiama Gedeone questo tizio io sarò con te stessa cosa che ha detto a Mosè prima e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo gli disse allora se ho trovato grazie ai tuoi occhi dammi un segno che proprio tu mi parli sta gente non era scema e non si lasciava imbambolare dammi un segno che proprio tu mi parli intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti rispose resterò fino al tuo ritorno allora Gedeone entrò in casa preparò un capretto e con un'effa di farina fece focacce azime wow tempo passa mise la carne in un canestro il brodo in una pentola li portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì l'angelo di Dio gli disse prendi la carne e le focacce azime posale su questa pietra e versavi il brodo e gli fece così allora l'angelo del signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime e l'angelo del signore scomparve dai suoi occhi Cedeone vide che era l'angelo del signore e disse signore Dio ho dunque visto l'angelo del signore faccia a faccia il signore gli disse ma allora chi è l'angelo del signore o il signore nel mondo biblico dire angelo del signore e dire signore era la stessa cosa ecco perché i biblisti dicono ma chi ha annunciato a Maria Vergine la sua maternità un essere celeste o Dio stesso arrangiatevi il signore le disse la pace sia con te non temere non morirai perché chi vede Dio faccia a faccia crepa allora Gedeone costruì quel luogo un altare al signore lo chiamò il signore e shalom esso esiste ancora oggi a offra degli ebiezzeriti il segno è importante cosa ha fatto Dio lo ha aspettato anche nel primo libro dei re c'è qualche cosa di interessante lo saltiamo perché sono le 11 e 25 anche a Maria Vergine l'angelo dà un segno ecco Elisabetta tua parente nella sua vecchia e ha concepito anch'essa un figlio e questo il sesto mese è per lei che era detta sterile nulla è impossibile a Dio allora Maria disse ecco la serva del signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei e Maria che non è una devozionista in quei giorni in fretta e andò in fretta siccome è brutto ripetere due volte in fretta l'ha messo solo nel secondo verbo si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda per andare a vedere la pancia della sua parente guardate che la pancia della maternità è un fatto normale però in questo caso rivestiva il valore di segno perché Elisabetta è stata sterile per tutta la vita che Gesù se la prenda con noi perché questi segni non siamo capaci di individuarli è altrettanto vero e siccome il foglio finiva vi ho messo una citazione monca ma tanto quanto basta per capire il concetto Gesù dice quando voi vedete il cielo rosso alla sera dite buon tempo si spera lo dicevano già allora e quando lo vedete al mattino rosso rosso di mattina la pioggia si avvicina sapete dunque linea 169 sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi una generazione malvagia e adultera gli avevano chiesto un segno e lui dice ma santo cielo sto facendo miracoli a tamburo battente mi chiedete ancora un segno il dolce Gesù ha i venerdì di traverso generazione malvagia e adultera provate provate a dirlo voi querela per difamazione subito ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona e non hanno capito un Kaiser segno di Giona i tre giorni tra morte e resurrezione segno di Giona Giona sta a tre giorni nel cosiddetto ventre del mare la balena ha una gola piccola così si ciba di plankton Giona e la balena ma da quando in qua dunque questi segni ci sono non esiste un segno standard per tutti esistono segni personalizzati e non pensiate che siano cose eclatanti sono cose normali ma sono eclatanti per te come la maternità di questa parente era eclatante per Maria Vergine come per il povero Gedeone era eclatante che Dio lo aspettasse mentre lui faceva i brodini le focacce come per Mosè era eclatante che lui un omicida tornasse in Egitto nessuno lo mettesse in prigione potesse dialogare col faraone fare il disastro delle dieci piaghe ritornare nel deserto con il popolo e la prima tappa trovarsi lì a fare un sacrificio di ringraziamento a Dio lì dove Dio gli aveva parlato cosa c'è di straordinario c'è tutta una serie di avvenimenti che di straordinario hanno la sequenza a domenica 9 a domenica 9 che di straordinario di un'evità che di straordinario